Nella storia dell'arte del racconto, il giro di vite rappresenta un vertice assoluto, un esempio di perfezione praticamente irraggiungibile. Dal 1898 resiste fieramente all'usura, semmai acquistando in bellezza ed efficacia col passare del tempo, come certi metalli preziosi. Di sicuro è rimasto intatto il suo potere di agghiacciare i lettori, tanto che possiamo ancora sottoscrivere il giudizio formulato da Virginia Woolf, in conclusione di un articolo pubblicato nel 1921 sul Times Literary Supplement e intitolato I fantasmi di Henry James. Il raffinato, mondano, sentimentale vecchio signore riesce ancora a farci avere paura del buio. Di quante storie scritte di spettri, di quanti film dell'orrore potremmo affermare, passata la prima impressione, che ci costringono a lasciare accesa la luce sul comodino, nulla può apparire più scoraggiante, soprattutto per uno scrittore privo dei trucchi del cinema, del tentativo di suscitare un sentimento come la paura, convivendo con lo scoraggiante sospetto che tutti i vecchi espedienti siano stati già impiegati, diventando inservibili. E il bello è che Henry James di racconti di fantasmi, a un certo punto della sua carriera, ne scrisse parecchi. Risalgono a quando era ancora giovanissimo un paio di ingenue esercitazioni, condotte sulle orme di Nathaniel Hawthorne, da cui derivano il gusto per il passato americano, culla ideale di fenomeni sovrannaturali ingenui, almeno come quell'idealizzata età dell'innocenza del New England. Gli studiosi cercano i racconti precoci, come la romanzesca storia di certi vecchi vestiti, e De Grey, una storia drammatica, pubblicati entrambi sull'Atlantic Monthly nel 1868 a 25 anni, le tracce e gli indizi della futura grandezza, e a volte le trovano davvero. Ma nel complesso non si tratta che di esercizi ben portati a termine. L'età d'oro degli esperimenti sui fantasmi di James è di molto successiva, e si colloca negli anni 90, quando lo scrittore cinquantenne, che ha già pubblicato libri come Daisy Miller, 1878, ritratto di Signora, del 1881, i bostoniani nel 1885, decide di consacrarsi al teatro, concedendosi solo qualche racconto a parsale compensazione della rinuncia ai romanzi lunghi. A cominciare dal primo della serie, Sir Edmund Orme, pubblicato in rivista come lettura natalizia del 1891, ne venne fuori una serie di racconti in cui le proverbiali virtù analitiche di James si misurano con l'apparizione di spettri veri e propri, o il verificarsi di altri arcani fenomeni. Sono tutti racconti ricchi di fascino, dove in piena espansione il gas dell'atmosfera psicologica di James, come lo definì il grande critico statunitense Edmund Wilson. E' questa inconfondibile atmosfera identica in alcuni grandi racconti di questo periodo, come l'altare dei morti del 1895 e la belva nella giungla del 1902, dove se mancano elementi strettamente sovrannaturali, l'ala nera dell'ossessione fa perfettamente le veci dello spettro. Tutti questi racconti fanno da degna corona al giro di vite. Ma i loro sondaggi nel sovrannaturale non sono mai pienamente in grado di soddisfare la coscienza estetica di James, che poi non è altro che la sua coscienza vera e propria, il centro vivo e sofferente della sua personalità. La consapevolezza in lui esclude ogni forma di ingenuità. E per quanto sottilmente scogitati, tutti questi prodigi alla fine gli devono aver dato l'idea di maneggiare dei giocattoli rotti. Niente di grave come la delusione che si profila sull'altro fronte, quello del teatro. Il successo sulle scene avrebbe riscattato lo scarso pubblico dei suoi romanzi, che per James, come per il suo amico Corrad, non era solo un problema di vanità artistica e di guadagni, ma è un vero e proprio cruccio morale. La stima degli intenditori non poteva resistere a un esame di coscienza accurato. Un romanzo senza lettori non era forse una specie di assurdo stato maggiore senza esercito, ma il teatro non ha mai offerto a nessuno facili vie di scampo all'insuccesso. Esige semmai talenti di cui James era del tutto sprovvisto. La sera del 5 gennaio del 1895, lo scrittore vide naufragare tra fischi la prima del suo Guy Donville. È in questo stato d'animo in cui doveva dominare un pericoloso senso di smarrimento, che nemmeno una settimana dopo avrebbe affrontato una delle conversazioni più significative e gravide di conseguenza della sua intera vita di artista. Le circostanze in cui James conosce e fece proprio quello che lui stesso avrebbe definito il primo germe del giro di vite, sono davvero degne del capolavoro che ne è scaturito. Raramente, inoltre, la storia letteraria ci mostra un esempio più istruttivo del potere dell'immaginazione, facoltà che si sviluppa pienamente solo in chi sa affiancare un'allenata capacità di attenzione e di ascolto al talento di inventare. Protagonisti di questa storia, oltre a Henry James, sono un arcivescovo e una signora impressionabile e smemorata. E per far visita all'arcivescovo di Canterbury, Edward White Benson, nella sua residenza di Eddington Park, che Henry James affrontò il 10 gennaio del 1895 il breve viaggio necessario a raggiungere Croydon da Londra. Nel salotto della grande e antica residenza ardeva il fuoco, l'arcivescovo e il romanziere si disposero con l'animo migliore ai riti congiunti del tè e di una bella conversazione tra due amici, legati da reciproca stima. James ci ha lasciato due testimonianze sui contenuti di questa conversazione che appare impregnata di un'atmosfera di fatalità. La prima testimonianza risale a due giorni dopo la visita ed è consegnata la dimensione privata dei famosi taccuini. Ma James ci sarebbe tornato sopra, e questa volta in maniera del tutto pubblica, nella profazione al giro di vite, scritta molti anni dopo, nel 1909, per la cosiddetta New York Edition. Sarà meglio partire da queste ultime pagine, più lontane nel tempo, ma più ricche di informazioni sulla situazione. Chissà come racconta dunque James il discorso fra i due amici, forse stimolato dall'atmosfera di un fuoco scoppiettante in pieno inverno, cadde sulle storie di fantasmi, su quanto ormai fosse difficile, se non impossibile, inventarne delle nuove, come un gioco in cui tutte le possibilità fossero state tentate e ritentate. Le storie di fantasmi buone e veramente efficaci erano già state tutte raccontate. E i moderni casi psichici, con tutte le loro pretese di affidabilità scientifica, erano i meno adatti a resuscitare il vecchio sacro terrore. Non rimaneva che rimpiangere una bella forma perduta. Come sappiamo, con tutti gli esperimenti nel sovrannaturale che stava accumulando, James si doveva sentire a riguardo, punto sul vivo, come parte in causa, forse molto di più di quanto l'arcivescovo poteva immaginare. Ma una volta che una bella forma è data per perduta, rimane ben poco da aggiungere. Ed è proprio a questo punto, quando l'argomento sembra comunque esaurito e pronto a sparire dalla conversazione così come vi era apparso, che il venerabile ospite tira fuori per il suo amico, il raffinato romanziere, uno di quei doni che lasciano chi li riceve ancora più stupefatti che grati. È un puro, incontaminato frammento del vecchio sacro terrore, quello che l'arcivescovo tiene in serbo da tantissimo tempo. È una cosa che gli è stata raccontata quando era giovane, da una signora che frequentava a quei tempi e che non era affatto una buona narratrice. Ma l'arcivescovo non aveva mai dimenticato il profondo turbamento suscitatogli dal racconto, perché la smemorata signora di quella storia che non ricordava per intero aveva comunque trattenuto nel cuore un'immagine del male talmente assoluta e spietata che tutto il resto al confronto non sarebbe stato che un accessorio. Si trattava di due bambini rimasti orfani e costretti a vivere in un luogo remoto e isolato dove le loro fragili vite sono insidiate dagli spettri di certi servitori cattivi determinati a impossessarsi di loro. Eccolo qui, condensato nel minor numero possibile di parole, il famoso germe. È un'immagine potente capace di insediarsi nell'immaginazione con l'autorità di un'ape regina in un'arnia. Ogni altro dettaglio, commenta James, sarebbe stato superfluo e dannoso. Semmai ad attirarlo era proprio il velo di inconsistenza che avvolgeva il tutto. Finissima osservazione filosofica questa di James, perché tra gli attributi del male l'inconsistenza non è certo il minore. E possiamo immaginare lo scrittore di ritorno a Londra quella notte di gennaio mentre contempla nella sua mente quelle figure così perfette, avvolte nel loro velo di inconsistenza. I due bambini, i due spettri di servi malvagi, la casa isolata. L'arcivesco aveva ragione. Quello era un frammento di ottima lega, una scheggia di terrore antico. Le prime elaborazioni del racconto di spettri. Chissà da quanto tempo quella storia resisteva alla dimenticanza. La signora che in gioventù l'aveva raccontata all'arcivesco l'aveva a sua volta ascoltata da qualcuno, non certo inventata. Impossibile risalire il corso della corrente fino a quell'anonimo senza volto che sta sempre all'origine di una storia, come lo ha chiamato Pietro Citati. Conta solo il fatto che, tenace come un virus, la storia si è trasmessa di bocca in bocca. E come se fosse dotata di un'intelligenza propria, non si è limitata a perpetuarsi, ma ha puntato verso la persona giusta. C'è qualcosa che evoca una solenne cerimonia nel fatto che addirittura un arcivescovo si sia preso il disturbo di consegnare la terrificante immagine dei bambini e degli spettri nelle mani del suo destinatario privilegiato. Da quello straordinario tessitore che era, Harry James sarebbe stato capace di ricostruire l'intero disegno a partire da quell'unico frammento che si era salvato. sarebbe stato un lavoro lungo e difficile che esigeva un certo periodo di latenza nel quale il germe avrebbe riposato nella feconda oscurità della mente dello scrittore. Ma bisognava strappare subito quella storia, se non alla sua tanto preziosa inconsistenza, al mondo dei ricordi e dell'oralità. Due giorni dopo la visita ad Eddington Park il 12 gennaio del 1895 James fissò tutto su una pagina dei suoi taccuini miniera di idee e spunti narrativi di inesauribile ricchezza. Conviene citare per esteso questo primo passo concreto verso il giro di vite. Sabato 12 gennaio 1895 da tenere presente la storia di fantasmi che mi è stata raccontata ad Eddington la sera di giovedì 10 dall'arcivescovo di Canterbury. Per quanto vaga traccia senza un preciso dettaglio così come gli è stata detta approssimativamente male da una signora che non aveva alcuna capacità di conversazione e di farsi intendere. La storia dei bambini numero ed età indefiniti lasciati alle cure dei domestici in una vecchia dimora di campagna dopo la morte verosimilmente dei genitori. I domestici corrotti e depravati corrompono a loro volta i bambini i bambini diventano cattivi e maligni in misura sinistra i domestici muoiono sulle circostanze del fatto la storia resta vaga ma le loro sembianze e figure tornano a visitare la casa ai bambini cui pare rivolgano sollecitazioni perché vadano da loro passando posti pericolosi come il profondo fossato che divide una recensione crollata eccetera tal che i bambini se rispondono se entrano nel loro potere possono rimanerne annientati e perdersi per sempre finché i bambini se ne stanno lontano da loro non saranno perduti il punto per questi bambini è di arrivare dove loro si trovano l'intera situazione tutta la storia è quanto mai oscura e imperfetta eppure in essa c'è un effetto stranamente raccapricciante la storia andrebbe raccontata ovvio ma non troppo da uno spettatore da un osservatore esterno a parte l'ultima frase su come la storia andrebbe raccontata che nel suo acume da scrittore navigato è sicuramente farina del sacco di James possiamo sospettare che nel giro di due giorni dal giovedì al sabato il dono inestimabile dell'arcivescovo avvolto nell'inconsistenza come in una sottile carta da regalo abbia già iniziato a subire da parte del nuovo proprietario un processo di razionalizzazione di messa in forma quella materia oscura e molle insomma ha cominciato a girare sul tornio docile ai primi tocchi delle dita del maestro certo ancora molto resta da fare a partire dall'individuazione del numero dell'età e del sesso dei poveri bambini che diventeranno gli indimenticabili Miles e Flora anche la vecchia dimora di campagna che si chiamerà Bly avrà bisogno di essere intensamente immaginata ma su questo punto James aveva accumulato una tale esperienza da non avere nulla da temere e anche dei fantasmi bisognerà capire chi sono stati in vita e cosa li lega ai poveri bambini la storia originale alludeva al fatto che la loro strategia principale consisteva nell'indurli ad attraversare luoghi pericolosi per attirarli nella morte e impossessarsene per sempre non è un'idea che sarà del tutto scartata nel giro di vite basta pensare alla fuga in barca di Flora sul laghetto del parco di Bly se James non rinuncia del tutto a questo classico motivo fiabbesco che ricorda i fratelli Grimm la strategia dei suoi spettri sarà molto più elusiva e indefinibile ma le righe più interessanti dell'appunto sui tacquini sono le ultime è ovvio anche se non troppo in fin dei conti perché in queste cose rimane sempre un margine di incertezza che bisogna scogitare un punto di vista che pur partecipando in qualche modo al corso degli eventi resti uno spettatore un osservatore esterno possiamo riconoscere in questo scarso memorandum il primo incerto schizzo a matita dell'anonima istitutrice di Miles e Flora sì e no se l'osservatore esterno è qualcuno che mantiene un distacco e una neutralità di fronte a ciò che accade allora nessuno meno dell'istitutrice con la sua fiera e incrollabile decisione di difendere i bambini dagli spettri corrisponde a questo requisito d'altra parte questa giovane donna destinata a diventare uno dei più memorabili personaggi dell'intera opera di James si scoprirà costretta dalle circostanze a un ruolo di spettatrice la dettatura del romanzo non si può certo dire che i tre anni successivi alla visita all'arcivescovo di Canterbury siano stati più fecondi della vita artistica di James che pure compose in quel periodo le spoglie di Pointon e altri testi importanti non è lecito sapere se dopo aver messo il germe del giro di vita al sicuro nei taccuini ci pensò di tanto in tanto oppure lo fece retrocedere in una di quelle zone della mente in cui la dimenticanza custodisce le cose preziose per rimandarle alla coscienza al momento giusto questo tipo di rimozioni possono essere decisive nel momento in cui la coscienza dello scrittore intuisce che la materia non è ancora pronta per un intervento definitivo meglio allora lasciarla crescere da sola fermentare per un certo periodo al riparo dell'intelligenza e della volontà sia come sia è nell'autunno del 1897 che James si mise all'opera dopo aver ricevuto un invito per un racconto dal Collier's Weekly ed è proprio sulle pagine di questa gloriosa testata americana dove la letteratura si affiancava al giornalismo di inchiesta che il giro di vita apparve per la prima volta a puntate tra gennaio e aprile del 1898 James aveva finito di dettare racconta un dattilografo William McAlpine entro il primo dicembre dell'anno precedente su questo dattilografo uno scozzese molto compassato esiste un aneddoto divertente durante la dettatura James spiava con ansia le sue reazioni e fu deluso di non scorgere sul suo volto alcuna traccia di quel terrore che intendeva infondere nei lettori ma la sorpresa più grande venuta fuori dalla dettatura riguarda le dimensioni della novella fantastica molto più corta nelle intenzioni rispetto al centinaio di pagine che la resero di fatto un romanzo breve questa dilatazione di ogni minimo spunto nascosto nel germe rappresenta di per sé uno degli aspetti più affascinanti di quel supremo impeccabile tour de force stilistico immaginativo che il giro di vite James risolse nella più brillante delle maniere un impulso contraddittorio da una parte fagocitò la sua scarna materia iniziale sfruttandone l'inconsistenza per sottoporla al suo formidabile spirito analitico al suo infaticabile talento per ogni minima sfumatura psicologica ma nello stesso tempo in modo ugualmente decisivo riuscì a tenersi fedele al primo lampo di orrore che la storia ascoltata in quella sera d'inverno aveva suscitato in lui James confidò al critico Edmund Goss che una sera dopo aver corretto le bozze del giro di vite aveva avuto paura a salire al piano di sopra per andare a dormire non c'è motivo di dubitarne non è possibile spaventare gli altri se non ricorrendo a ciò che a nostra volta ci ha spaventato il prologo tutta questa vicenda era nata di fronte a un fuoco scoppiettante una sera d'inverno e James pensò bene invece di affrontare ripeto la storia di ricostruire una specie di equivalente dell'ormai lontana visita all'arcivescovo di Canterbury a quel punto James aveva ben chiara l'invenzione più importante che sarebbe stata quella di affidare tutto il racconto della terribile vicenda all'istitutrice governess nell'originale ma non si tratta di una confessione fatta in carne e ossa degli ascoltatori gli ascoltatori ci saranno e non si perderanno nemmeno una parola ma dovranno accontentarsi di un manoscritto nel quale la donna aveva raccontato la sua avventura prima di morire ma questa testimonianza rimasta per anni nel classico fondo di un cassetto per essere compresa pienamente aveva bisogno di una specie di cornice o meglio di preambolo ed ecco un gruppo di amici riuniti durante le vacanze di Natale in una vecchia casa fuori Londra la sera della vigilia come la tradizione ci si scambiano storie di spettri ed ecco il fiato sospeso che nella prima riga del racconto quasi ci intrufolassimo in ritardo nella riunione sorprendiamo gli amici che hanno appena sentito raccontare dal narratore di turno la storia di un'apparizione spaventosa il fatto che questa sparizione spaventosa sia capitata a un bambino suscita il commento di un ascoltatore che non conosceva altri di questo tipo ma l'elemento davvero raccapricciante della storia non consiste solo nel fatto che un bambino veda uno spettro terrorizzato il bambino va a svegliare la madre che cerca di calmarlo e farlo riaddormentare fino a quando si rende conto che lo spettro è lì che lo vede anche lei che non si tratta di un brutto sogno o di una fantasia notturna questo scarno riassunto è quasi una miniatura del giro di vite con tutte le sue sapienti opposizioni e presunte coincidenze tra ciò che vedono gli adulti e ciò che invece vedono Miles e Flora nelle stanze e nel parco di Bly la differenza è che né Miles né Flora avvertirebbero l'istitutrice della presenza di uno spettro al capo del loro letto semmai i due bambini di James fingono di non vedere nulla ce n'è abbastanza però perché in uno dei partecipanti alla riunione Douglas scatti la molla del ricordo certo inizia con l'ammettere Douglas in una storia sovrannaturale la presenza del bambino equivale a un giro di vita in più ma allora prosegue che ne direste se i bambini fossero due la storia promette Douglas è davvero orribile al di là di ogni limite una volta accesa la miccia in modo così sapiente la curiosità divampa all'istante tra gli uomini e le donne del gruppo che però verranno presto frustrati e ulteriormente incuriositi quando Douglas si rifiuta di mettersi subito seduto a raccontare le cose non sono così semplici e se propri partecipanti alla riunione vogliono conoscere di cosa si tratta Douglas dovrà mandare un cameriere a Londra a recuperare il manoscritto la storia è scritta infatti da una donna che ne è stata testimone e parte attiva come l'arcivescovo di Canterbury nemmeno Douglas aveva mai dimenticato la profonda impressione ricevuta dai fatti che gli erano stati raccontati in gioventù dalla protagonista Douglas aveva conosciuto bene tanto tempo prima l'autrice del manoscritto ai tempi in cui lavorava come istitutrice di sua sorella erano ormai passati 40 anni durante le vacanze estive Douglas aveva stretto con questa donna ancora giovane un legame abbastanza stretto da far sì che lei per la prima volta confilasse a qualcuno la terribile vicenda alla quale era sopravvissuta in un periodo successivo la donna si era decisa a mettere nero su bianco ciò che sicuramente poteva considerarsi la grande esperienza della sua vita ed era stata lei a inviargli quelle sue memorie poco prima di morire una ventina d'anni prima tutto era conservato lì nell'inchiostro sbiadito e nella calligrafia bellissima di quel manoscritto custodito in un album di foggia antiquata sottile e dai bordi dorati secondo prologo nell'attesa che inizi la lettura della storia promessa da Douglas bisognerà aspettare qualche giorno perché il cameriere di Douglas vada a Londra e torni indietro con il vecchio album a freggi dorati nel frattempo l'attesa degli amici raccolti nella vecchia casa per le feste di Natale una situazione che richiama la lontana l'archetipo del Decameron si fa sempre più spasmodica ma l'intervallo è importante perché il manoscritto che Douglas intende leggere agli altri prendeva a raccontare la storia dal punto in cui era per così dire incominciata è una testimonianza scritta un memoriale in ogni caso non è un romanzo dove si raccontano gli antefatti necessari a comprendere le azioni dei personaggi sarà Douglas in attesa dell'arrivo da Londra del manoscritto a supplire a questa mancanza facendo le veci del romanziere le informazioni che dà sono importanti l'istitutrice era la più giovane delle numerose figlie di un curato di campagna era arrivata a Londra in seguito a un'offerta di lavoro presentandosi subito in un grande palazzo di Harley Street che aveva colpito per la sua imponenza quella ragazza di vent'anni appena uscita da una canonica dell'Amshire ma ben altro che la casa del probabile datore di lavoro l'avrebbe impressionata in quel fatale appuntamento il padrone di casa era un tipo d'uomo che sarebbe potuto apparire alla ragazza solo in sogno o nelle pagine di un vecchio romanzo bello aristocratico sicuro di sé cortese aveva sedotto la giovane si può dire al primo sguardo e un po' di questo potere di seduzione era necessario perché l'incarico venisse accettato su due piedi la ragazza doveva raggiungere una vecchia dimora di famiglia nell'essex e prendersi cura dei suoi due nipoti un maschio e una femmina rimasti orfani dopo la morte dei loro genitori in India purtroppo una precedente istitutrice era anche lei morta e per il momento ci si era dovuti accontentare della scuola per Miles il fratello maggiore e delle cure della signora Grose donna eccellente ma ignorante una fidata cameriera di famiglia per la piccola Flora a parte la servitù i bambini vivevano del tutto isolati dal mondo lo zio era troppo assorbito dai suoi affari per occuparsi di loro e una nuova istitutrice era più che mai necessaria nell'imminenza del ritorno di Miles a Bly per le vacanze estive tutto ciò rappresentava già una grande responsabilità per una ragazza alle prime armi ma era la clausola principale del contratto quella che avrebbe fatto vacillare persone ben più esperte mai e poi mai per nessun motivo lo zio doveva essere disturbato nemmeno con una lettera la nuova assunta avrebbe dovuto importunare la tranquillità del suo datore di lavoro doveva cavarsela da sola in ogni questione ritirare il denaro dall'avvocato e non interpellarlo mai con questa clausola così bizzarra e perentoria il comportamento dell'affascinante signore di Harley Street il master come verrà spesso chiamato nel corso della storia acquista un evidente sapore fiabbesco quanto più l'interdetto stabilito è arbitrario e ingiustificabile quanto più il suo potere di seduzione sulla ragazza assomiglia a un plagio a un sortileggio ma non basta l'impossibilità di comunicare con il master svolge una funzione narrativa essenziale contribuendo in modo decisivo a fare di Blay un luogo che non è solo remoto fisicamente del tutto isolato ma che in virtù di un patto solenne appartiene con tutti i suoi orrori a un ordine differente della realtà che è quello delle fiabbe appunto degli incubi delle allucinazioni il manoscritto dell'istitutrice mentre aspettiamo anche noi che l'agoniato manoscritto arrivi da Londra possiamo concederci una piccola riflessione sulla genialità con cui James ha costruito il suo preambolo al giro di vite come nel caso realmente accaduto della visita all'arcivescovo di Canterbury anche nella finzione del gruppo di amici che si scambiano racconti di fantasmi nelle sere di Natale si verifica quel fenomeno della trasmissione delle storie che agli occhi di James è sempre un vero e proprio prodigio rispetto alla realtà la situazione inventata è più ricca di sfumature con un continuo e affascinante passaggio dall'oralità alla scrittura quando Douglas era giovane l'istitutrice aveva raccontato a voce la sua terribile storia ma Douglas non può fare altrettanto con i suoi amici perché la storia intanto è stata scritta nonostante questo l'oralità riprende il sopravvento quando una volta arrivato il manoscritto da Londra Douglas inizia a leggerlo con una bella voce chiara che è come un equivalente della bellezza della grafia della sua autrice ma la lettura di Douglas non è l'ultimo anello di questa catena prima di morire ci viene detto Douglas affide il manoscritto dell'istitutrice all'anonimo narratore del preambolo un membro della cerchia di amici riuniti intorno al fuoco durante quelle notti di Natale stranamente invece di dare alle stampe direttamente il manoscritto il suo nuovo proprietario ne ha fatto una copia fedele che corrisponde a quella che leggiamo noi questa moltiplicazione delle copie della storia dà da pensare come si ricorderà sul piano della realtà materiale non esiste alcun manoscritto del giro di vite perché James dettò e racconta un dattilografo come se fosse interessato a una specie di compensazione fantastica invece James crea un clima di attesa intorno al manoscritto dell'istitutrice che guadagna una specie di autorevolezza da oggetto magico se Douglas si fosse accontentato comeppure aveva la possibilità di raccontare a voce un riassunto della storia avremmo perduto questo particolare effetto di verità con i suoi eventi narrati in prima persona e la sua mancanza di alcune informazioni fondamentali che si troverebbero nell'opera di qualunque scrittore il manoscritto si offre ai suoi ascoltatori e di conseguenza ai lettori di James con tutti i crismi di una testimonianza autentica sono proprio le sue imperfezioni essere convincenti in questo senso perché se si trattasse di una semplice opera di fantasia l'autrice non avrebbe omesso di presentare se stessa la situazione cosa che invece tocca fare preventivamente a Douglas per rendere pienamente comprensibile il filo degli eventi insistendo sulla presenza di un manoscritto anzi di due manoscritti James da un lato rende omaggio a una delle più tenaci tradizioni narrative romantiche si pensi solo al manoscritto trovato a Saragozzo o ai promessi sposi dall'altro riattiva un tema già frequentato dalla sua fantasia sull'ascito manoscritto di un grande poeta è imperniato uno dei suoi racconti più felici per intelligenza ed ironia il carteggio Aspern del 1888 che James ristamperà proprio accanto al giro di vite nell'edizione definitiva delle sue opere tra i suoi racconti fantastici inoltre ce n'è uno del 1896 gli amici degli amici in cui sembra bozzato con risultati infinitamente minori sul piano artistico lo stesso schema dell'imminente giro di vite a una breve introduzione seguì racconto vero e proprio in prima persona che si finge tratto dal diario di una delle sue protagoniste ma anche nel primo in ordine di tempo di racconti fantastici pubblicati da James nei primi anni 90 Sir Edmund Orm si finge il ritrovamento di una testimonianza autografa detto tutto questo bisogna subito aggiungere che James nel giro di vite utilizza l'ormai logoro espediente del manoscritto ritrovato con un'intensità e una genialità capace di rinnovarlo completamente perché è vero la testimonianza diretta contribuisce a conferire alla storia una particolare aura di autenticità e il personaggio che si rivolge direttamente al lettore facendo a meno della mediazione dello scrittore ma siamo davvero sicuri che l'autentico coincida esattamente con l'attendibile se la verità ha bisogno di documenti non esistono falsificazioni più insidiosi di quelle che si ammantano della finta innocenza dei documenti e anche quando possiamo ammettere la buona fede del testimone basta davvero la buona fede e garantire la verità di una testimonianza non vorrei che il mio racconto afferma un altro personaggio di un racconto fantastico di James Maud Evelyn finisse col diventare essenzialmente una dimostrazione della mia follia difficile non sospettare in questa frase pronunciata da un'amabile matrona aristocratica ben diversa per carattere ed esperienza dall'istitutrice un riflesso forse del tutto inconscio del grande lavoro sul punto di vista affrontato poco tempo prima nel giro di vite un documento autentico che contiene un resoconto narrato in prima persona vanta le migliori pretese all'oggettività che possiamo immaginare e nello stesso tempo ci rendiamo conto che l'arme a doppio taglio è più difficile impugnare di quanto potesse sembrare a prima vista perché ogni discorso in prima persona finisce per essere un ritratto di chi lo pronuncia e questo ritratto non può smentire in modo catastrofico l'attendibilità in altre parole il discorso in prima persona è il più vero dei discorsi ma non perché dica necessariamente la verità ma perché ci permette di formulare in ogni momento un giudizio su chi sta parlando proprio ciò che sempre James esige dai suoi lettori l'arrivo dell'istitutrice a Bly ricordo l'inizio del tutto come un succedersi di voli e di ricadute una rapida altalena di emozioni verso l'alto e verso il basso così dopo le sottili complicazioni e le fini allusioni dell'introduzione irrompono nel giro di vita il punto di vista il modo di esprimersi il carattere fibrillante e l'acuto spirito di osservazione dell'istitutrice è come una dissolvenza ci troviamo presi all'accio di quella voce resuscitata dalla sua calligrafia bellissima come la Fenice dalle sue ceneri il lungo rito di evocazione ufficiato da Douglas ha ottenuto il suo scopo perché se quello che ci apprestiamo ad ascoltare è un racconto di spettri anche la narratrice è ormai uno spettro e la sua voce ci arriva come se provenisse di là da una barriera da una lontananza irrimediabile non è una voce vera quella che risuona nella nostra mente ma l'immagine di una voce creata dalla scrittura magistrale di Henry James fin dalle prime parole l'istitutrice rivela il tratto fondamentale del suo carattere nel quale l'altalena delle emozioni non smette mai la sua rapida oscillazione e il succedersi di voli ricadute più che uno stato di eccezione è la regola tra i doni di questi spiriti inquieti e lo potremmo constatare in ogni pagina del giro di vite i più eminenti sono la capacità di provare intensi affetti e quella non meno sviluppata di prestare attenzione a ogni minimo dettaglio ogni sentimento sembra condotto a un parossismo insostenibile ma la loro forza risiede proprio in questa apparente debolezza la nota dominante delle prime pagine del racconto è quella della meraviglia la figlia del pastore dell'Amshire non aveva mai nemmeno potuto immaginare la bellezza e le dimensioni di un'antica dimora aristocratica come Bligh circondata dal suo venerabile Parco Flora una bimbetta di otto anni ne aveva solo sei nella prima versione e l'immagine stessa della grazia infantile del suo potere di seduzione generato dall'innocenza l'anziana signora Gross nella sua semplicità rappresenta un'altra forma di innocenza quella che matura lentamente lungo una vita fatta di fedeltà sagge abitudini pazienza in lei l'istitutrice conscia della difficoltà del suo compito riconosce subito una valida alleata e se Bligh agli occhi più maturi ed esperti della donna che scrive il suo memoriale non è che una vecchia casa grande brutta ma confortevole per quella ragazza alle prime armi è il castello di una favola uno di quei luoghi che l'immaginazione infantile è capace di trasformare con i colori della magia l'imminente arrivo di Miles dovrebbe colmare la misura perfetta di questa felicità ma l'ombra di un mistero doloroso e incomprensibile non tarda ad allungarsi sull'animo trepidante dell'istitutrice e sul cuore semplice della signora Gross questa prima manifestazione del male si presenta sotto forma di una lettera proveniente dallo zio di Harley Street la lettera ne contiene un'altra indirizzata dal direttore del collegio di Miles al suo tutore il quale non volendone sapere nulla la gira all'istitutrice con la solita raccomandazione di vedersela a lei e di non comunicargli alcuna seccatura ma si tratta di qualcosa di ben più grave di una comunicazione amministrativa Miles infatti è stato espulso in modo irrevocabile dal collegio ancora prima di conoscere il bambino l'istitutrice è sconvolta dalla notizia cosa può avere fatto di così malvagio quel bambino e dal momento in cui legge questa lettera che l'Eden in cui l'istitutrice credeva di vivere inizia ad assumere una tinta più livida che nemmeno lo splendore della bella stagione è capace di occultare non che Bly divenga all'improvviso come in seguito a un'unica ghiacciante scoperta un inferno semmai ogni novità del racconto ne rafforzerà la natura eminentemente ambigua facendone un campo di battaglia dove forze mortalmente avverse si devono affrontare all'ultimo sangue e come spesso accade mentre il male conosce ammenadito i suoi piani eternamente uguali a se stessi il bene è costretto a giocare in difesa ad aspettare il momento propizio per un'azione e in ultima analisi a improvvisare preparato dalle sconvolgenti notizie provenienti dal collegio l'arrivo di Miles con la sua bellezza e i suoi modi da piccolo lord non potrà a questo punto che aumentare lo sconcerto e l'inquietudine in misura almeno pari all'amore e all'ammirazione Miles possiede forse ancora più di flora quell'aria indescrivibile e leggera di chi non conosce niente del mondo se non l'amore ma quest'aria questa little air come scrive James corrisponde alla sostanza del bambino come il classico serpente nell'erba l'incertezza inizia a fare capolino alle spalle di ogni dillica apparenza non c'è terreno più propizio di questo alla prima apparizione di uno spettro l'apparizione di Peter Quint le pagine del capitolo terzo del giro di vite dedicata al primo incontro fra l'istitutrice e l'ombra di Peter Quint sono uno dei risultati supremi non solo dell'arte di James ma della prosa narrativa di tutti i tempi la perfezione del brano consiste nell'equilibrio fra l'apparizione del male incarnata dal vizioso cameriere e la sottigliezza dell'analisi psicologica che ne scandisce i momenti è importante ricordare che lo spettro di Quint si manifesta al momento giusto cioè quando l'ansietà e il sospetto si sono già insediati nell'animo dell'istitutrice facendo vacillare le prime impressioni felici dell'arrivo a Bly nello stesso tempo una tale apparizione non può che essere repentina e imprevedibile come il balzo di una belva la metafora è di quelle che contano nel repertorio di James che agli inizi del novecento scriverà la belva nella giungla uno dei suoi capolavori più memorabili anche se non contiene elementi sovrannaturali James lo considerava un racconto fantastico non fosse altro che per l'intensità allucinatoria dell'ossessione del protagonista John Marcher che passa tutta la vita nell'attesa di un evento catastrofico non sa lui nemmeno di che natura pronto a parargli si contro come una belva appunto sbucata dal folto della giungla ma a differenza di Marcher che attenderà in vano l'evento che pure condiziona la sua vita l'istitutrice la sua belva se la trova di fronte nella sua ora preferita durante uno di quei lunghissimi crepuscoli estivi durante i quali messi a letto i bambini passeggia nel parco godendone tutti gli incanti quando l'istitutrice vede un uomo in cima a una delle due torri ai lati della casa sulle prime cade in un equivoco abbastanza imbarazzante con un moto di gioia riconosce in quella figura maschile appoggiata ai merli della torre il padrone l'amato proprietario di Harley Street che è spesso al centro del suo fantasticare ma no quell'uomo non è la persona che la ragazza sperava di vedere apparire a Bly non si degna di farle un gesto di saluto e non porta il cappello segno incontestabile di villania ma c'è di più molto di più come se solo in quel momento l'istitutrice prendesse davvero le misure dell'orrore che si sta manifestando si rende conto che la bellezza del parco e dell'ora vespertina sono sparite da Bly tutto quell'incanto si è dissolto all'istante rivelando un luogo di desolazione è come se tutta la scena si ammantasse di morte prosegue l'istitutrice mentre io prendevo atto di quella realtà e all'apice di quell'atmosfera di morte ecco sopraggiungere quello che rimarrà d'ora in poi come il segnale più tipico e più terrificante della presenza degli spettri di Bly il silenzio tacciano le fronde degli alberi nel parco tacciano le cornacchie e tutti gli altri suoni della sera è come se in quella terra desolata in cui si è trasformato il mondo il silenzio fosse un gorgo che tutto risucchia al suo interno più avanti alla fine del capitolo 9 l'istitutrice riprenderà questo tema così fondamentale in occasione del suo terzo incontro sulle scale di casa con lo spettro di Quinta era solo il silenzio mortale dei nostri lunghi sguardi ravvicinati a dare a quella scena in tutto il suo agghiacciante terrore l'unico tratto del soprannaturale e spingendo le proprie capacità espressive in un terreno prossimo all'ineffabile più adatto alla poesia che alla prosa narrativa alla fine dell'apparizione l'istitutrice osserva che il silenzio stesso divenne l'elemento in cui vidi la figura svanire mirabile sinestesia questa davvero degna del genio di James e del suo sovrapporre i piani della percezione la vista e lì dito fino a farli conflagare in una specie di terrificante big bag percettivo dal quale si origina un mondo segnato dalla colpa e dalla crudeltà dove non può resistere nessuna illusione di innocenza spettri reali o immaginari torniamo alla fine del capitolo 3 perché la prima apparizione di Quinte termina con un'osservazione che non può essere sottovalutata con grande lucidità ripensando a quel momento fatale al prodigioso cambiamento del mondo circostante schiacciato in una morsa di silenzio l'istitutrice dichiara che dal punto di vista oggettivo niente era cambiato nel paesaggio niente a parte il fatto che era a lei a vedere con una nuova e strana chiarezza se il silenzio è come l'embrema araldico degli spettri questa stranger sharpness è il centro stesso della personalità della loro avversaria altrove capitolo 6 questa prerogativa verrà definita spaventosa predisposizione e diventerà il perno del costrante confronto con la signora Grose che è incapace di vedere gli spettri ma nutre un'assoluta fiducia nell'istitutrice fiducia che non tutti i lettori sono propensi a concederle e con questa considerazione entriamo in uno dei più dibattuti problemi di interpretazione registrati negli annali della critica letteraria il dilemma è noto e per comodità può essere riassunto in poche parole i fantasmi di Peter Quint e della signorina Jess e la precedente istitutrice sono autentici fenomeni sovrannaturali oppure il frutto dell'immaginazione deviata e patologica della narratrice questa seconda interpretazione che ha goduto in passato di grande favore sembra basarsi su una specie di ferrea conseguenza l'istitutrice nonostante siano evidenti la sua intelligenza e il suo spirito d'osservazione oltre che il suo coraggio non è una persona sana di mente come tante altre eroine vittoriane di romanzi e tante donne reali è vittima di potenti rimozioni che l'hanno condotta nelle larghe braccia dell'isteria della nevrosi e infine del delirio l'istitutrice insomma immagina gli spettri che tentano alla purezza di miles e flora e imbastisce il suo menzognero resoconto sulla base di questa allucinazione per decenni questo dibattito ha acceso gli animi e stimolato l'ingegno degli interpreti suggerendo inaccettabili forzature non c'è violenza che un critico non si sente in diritto di imporre un testo se serve a confermare una sua ipotesi ma stimolando anche un utile lavoro di setaccio tra tutte le reticenze e le ambiguità dell'opera una considerazione logica però si impone una volta che si mette in campo l'idea di un'allucinazione una percezione ingannevole dettata da qualche patologia nervosa come l'isteria è poi difficile stabilire un limite in un racconto in prima persona che non è confrontabile con altre versioni dell'accaduto tutto potrebbe essere vero o falso e se gli spettri non sono che delle chimere delle proiezioni di una mente malata lo stesso sospetto potrebbe intaccare tutti gli elementi della storia a partire dai bambini e dallo stesso scenario di Bly ci sono poi alcuni luoghi del testo che devono essere sottoposti a inopportuni stiracchiamenti e ipotesi arbitrarie per rimanere coerenti con la teoria del delirio esterico nel primo di questi brani l'istitutrice fa un'accurata descrizione dello spettro di Quinta alla signora Grose dopo averlo incontrato una seconda volta mentre spiava in casa dalla finestra della sala da pranzo dopo aver sottolineato la scandalosa mancanza del cappello l'istitutrice tratteggia un vero e proprio ritratto verbale alla sua amica che non esita a pronunciare il nome di Peter Quint come fa il frutto di una fantasia da ossomigliare così tanto a una persona esistita da essere rapidamente identificato se James fosse d'accordo con i suoi critici freudiani non avrebbe forse omesso una complicazione così imbarazzante c'è poi capitolo 17 una delle scene più terrificanti dell'intero racconto nell'ennesimo tentativo di scoprire il mistero dell'espulsione di Miles una notte l'istitutrice entra nella camera del bambino questi sembra sul punto di aprirsi di accettare l'aiuto che gli viene offerto quando una folata fredda e spaventosa irrompe nella stanza come se la forza del vento avesse spalancato le ante della finestra la candela vicino al letto si spegne ma la finestra è rimasta chiusa le tende davanti erano immobili quella malvagia folata non era stata dunque un fenomeno naturale razionalmente spiegabile e le parole di Miles che chiudono la scena affermando di essere stato lui a spegnere la candela non fanno che sigillare alla perfezione l'orribile dimostrazione di forza dello spettro infine si consideri un ultimo episodio capitolo 21 collocato quando ormai la tragedia sta procedendo inarrestabile verso il suo esito questa volta è la signora Gross che pure incapace di vedere gli spettri a informare l'istitutrice di un nuovo effetto dell'opera di corruzione dei bambini implacabilmente portata avanti dagli spettri è quello della signorina Jessel questa volta responsabile del mutamento dell'angelica flora è un turpiloquio inimmaginabile per una ragazzina che solo lo spettro della signorina Jessel ancora più infame di quello di Quinte può averle insegnato anche di fronte a questi due ulteriori esempi c'è da chiedersi perché mai James volendo screditare il punto di vista della sua heroina si sarebbe infilato in tali trappole ma questo non significa affatto a mio parere che lo scrittore avesse in mente una persona sana basta non fare dello squilibrio mentale in particolare dell'isteria la prova dell'inesistenza degli spettri di Bly e rovesciare questo assunto ammettendo che l'istitutrice proprio perché vive in una condizione di esasperata tensione e fragilità nervosa si è in possesso della sua chiaroveggenza della sua spaventosa predisposizione da questo nuovo punto di vista certe analogie tra la letteratura scientifica e l'immaginazione di James studiate in particolare da Oscar Kergill sono più che convincenti nello stesso 1895 in cui James riceveva dall'arcivescovo di Canterbury l'inestimabile germe del giro di vita apparivano in tedesco gli studi sull'isteria di Josef Breuer e Sigmund Freud e davvero sorprendenti sono le analogie tra uno dei casi clinici descritti in questo libro seminale quello di Miss Lucy R afflitta da allucinazioni olfattive e l'oreunia di James che per parte sua Edmund Wilson con minore finezza psicologica riconduceva il grande archetipo narrativo della frustrata zitella anglosassima persone difficilmente James può avere letto direttamente in tedesco gli studi sull'isteria ma qui potrebbero entrare in gioco informazioni offerte dal fratello William il grande filosofo molto interessato ai nuovi metodi terapeutici non solo di Freud ma anche di Jeannet sia per William sia per Henry non si trattava solo di una stratta curiosità intellettuale perché in gioco c'era la salute dell'amata sorella Alice morta nel 1892 dopo un'esistenza afflitta da una grande quantità di oscuri disturbi nervosi quanto più i libri sono importanti tanto più si possono considerare come dei bacini collettori delle esperienze di chi li ha scritti e che l'ombra di Alice per la quale Henry nutiva una vera devozione e addirittura l'ombra di Miss Lucy R si siano proiettate sulla concezione della protagonista del giro di vite appare tutt'altro che inverosimile una volta che queste suggestioni sono state sottratte al proposito di togliere credibilità al racconto risultano addirittura illuminanti ma qualcosa di più può essere cercato negli altri racconti di fantasmi scritti da James negli anni 90 in particolare nel primo della serie Sir Edmund Orme del 1891 come ho già ricordato anche questo racconto si avvale del vecchio trucco del manoscritto ritrovato trovai queste pagine in un cassetto chiuso a chiave dice l'anonimo curatore che lascia ai lettori il compito di valutare la sua veridicità ma il racconto è importante ai fini dell'interpretazione del giro di vite soprattutto perché il protagonista gode della stessa chiaroveggenza per usare un termine tecnico dello spiritismo dell'istitutrice in Sir Edmund Orme il tono è felicemente leggero e l'ambientazione in una località balneare come Brighton ci porta già di per sé molto lontano dalla sinistra solitudine di Bly Edmund Orme è uno spettro che non incuterebbe paura a nessuno nemmeno in chi è in grado di vederlo è un gentiluomo di vecchio stampo che ha subito un torto dalla signora Marden e per punirla continua ad apparirle alla stregua di un muto inoffensivo e improvero durante un incontro del tutto casuale col protagonista innamorato di Charlotte la figlia della signora Marden quest'ultima si rende conto che il futuro genero a differenza del resto del mondo è anche egli in grado di vedere il fantasma di Edmund Orme la capacità di vedere i fantasmi si configura come un dono inspiegabile una predisposizione innata a varcare quel confine tra il visibile e l'invisibile che rimane inviolabile per la maggior parte di nostri simili che come la signora Gross del giro di vite possono solo credere o dubitare senza esperienza diretta una lieve allusione a quest'ultima quasi una strizzatina d'occhio ai lettori più attenti forse potrebbe essere riconosciuta in un altro racconto di fantasmi la terza persona quando le due attempate zitelle che convivono con lo spettro di un loro avo contrabandiere si dichiarano convinte che in casa nessun altro potrà vederlo poiché non era roba per cameriere terrificanti apparizioni spettrali si potrebbe concludere che questa capacità di vedere ciò che gli altri non vedono possa toccare in sorte a persone totalmente normali come i protagonisti di Sir Edmund Orm e la terza persona oppure a un carattere molto più complesso e problematico come quello dell'istitutrice da questo punto di vista è assimilabile a molte altre predisposizioni che riguardano alcuni individui e non la maggioranza dei loro simili come una memoria straordinariamente precisa o la rapidità nel risolvere calcoli complessi o una particolare sensibilità musicale molto più problematico è il caso dei due bambini del giro di vite per Miles e Flora vedere Quinta e la signorina Jessel equivale a subire un'influenza corruttrice e dunque a una perdita di innocenza tanto è vero che la loro strategia fondamentale consiste nel fingere di non vederli è questa scoperta che piomba l'istitutrice in un'ulteriore dimensione dell'incubo che sta vivendo fino a un certo punto infatti i suoi propositi sono stati chiari ero lì per proteggere e per difendere quelle creaturine le più amabili al mondo e le più indifese e questa la sua grande occasione ma l'apparizione della signorina Jessel sulla riva del laghetto del parco di Bligh equivale alla più tremenda delle rivelazioni non a caso tra tutte le scene sovrannaturali del giro di vita è questa la più terrificante l'istitutrice e Flora sono sole nei pressi del laghetto e mentre la bambina gioca l'altra è impegnata in un lavoro di cucito ed ecco che senza ancora alzare lo sguardo l'istitutrice inizia ad avvertire con certezza la presenza di una terza persona dall'altro lato dello specchio d'acqua ma mentre attende il coraggio necessario ad alzare lo sguardo il suo cutissimo senso d'osservazione percepisce nell'atteggiamento di Flora qualcosa di molto più sinistro di qualunque apparizione spettrale per me avverte la narratrice questo è molto più spaventoso di qualsiasi altra cosa avrò da raccontare e bisogna darle ragione all'improvviso l'istitutrice si rende conto che Flora è particolarmente silenziosa e che ha voltato le spalle all'acqua ambe due la bambina e colei che credeva di proteggerla sono sotto lo sguardo dello spettro della signorina Jessel ma Flora sta facendo finta di niente e dunque complice dello spettro di quella donna vestito di nero pallida e spaventosa straordinariamente bella ma infame fra tutti i fantasmi della letteratura sarebbe ben difficile trovarne uno che regga il confronto con il fosco fascino dell'ombra della signorina Jessel se Peter Quinter era stato un uomo spavaldo impudente vizioso depravato nella sua complice in vita e in morte c'è qualcosa di ancora più spaventoso come sempre accade quando la malvagità sembra scaturire da una violenza subita e da un'innocenza perduta l'aver differenziato i due spettri con tanta sottigliezza morale è uno di tanti segni dell'arte suprema di James profusa nel giro di vite Quinter è molto meno complesso della sua amante i quattro aggettivi appena citati bastano e avanzano per inchiodare una ben precisa fisionomia da corruttore da romanzo gotico si potrebbe addirittura accusare James di aver immaginato un personaggio fin troppo dozzinale se ciò non soddisfacesse all'esigenza artistica di mettere ulteriormente in rilievo il pericolo rappresentato dalla signorina Jessel il potere di quest'ultima è infinitamente più grande perché prima di corrompere è stata lei stessa corrotta conosce bene tutte le strade anche le più tortuose che conducono dall'innocenza al male la distinzione non sfugge di certo alla sensibilità esasperata dell'istitutrice tragica e disonorata cupa come la mezzanotte la signorina Jessel porta incise sulla sua stessa bellezza le tracce di un indicibile dolore durante la sua ultima apparizione si erge sul bordo del laghetto come una biblica vampa di fuoco probabilmente il doppio legame che unisce da una parte Quint e Miles dall'altra la signorina Jessel e Flora rappresenta una specie di complicazione dell'orrore come se la seduzione esercitata dallo spettro femminile sulla bambina fosse più sottile e pericolosa e maggiormente adeguata alla concezione dell'animo femminile elaborata da James resta però il fatto che come i due spettri agiscono simultaneamente con una specie di manovra tenaglia così i due bambini sono solidali nel loro tentativo di ingannare l'istitutrice e vanificare ogni suo proposito di proteggerli quella purezza che sembrava il tratto costitutivo ed essenziale del loro essere si trasforma in una recita della purezza che è molto più inquietante di qualunque fantasma che si aggiri in una vecchia casa parlo di recita in senso tutt'altro che generico perché in tutto il giro di vita è massiccio il ricorso a metafore legate al teatro quando l'istitutrice descrive minutamente alla signora Grose le sembianze di quinte conclude affermando che pur non avendone mai visto uno in carne e ossa il fantasma le fa pensare a un attore ma ben più consumati attori capaci di mettere in scena una specie di spettacolo perpetuo dell'infanzia innocente sono Miles e Flora non erano mai importuni ricorda l'istitutrice e al tempo stesso non erano mai assenti la mia vigilanza consisteva per lo più nel guardarli mentre giocavano divertendosi moltissimo senza di me era come uno spettacolo che allestivano alla cremente che contemplava me come ammirata spettatrice i bambini sembrano impegnati più di tutto a intrattenere con tutte le loro capacità la loro povera protettrice improvvisano dei mimi e delle recite si mascherano da animali o da personaggi storici o ricavati dal repertorio di Shakespeare vivevamo in una nuvola di musica e di affetti di teatrini tutti i nostri per parte sua con l'arrivo dell'autunno Bly diventa simile a un teatro dopo che è finito lo spettacolo con i biglietti accartocciati sparsi a terra ma questo paragone non significa certo che con la fine dell'estate la privata rappresentazione messa in scena da Miles e Flora venga in qualche modo sospesa ben presto l'istitutrice si rende conto che la recita diventa perfetta nella misura in cui i bambini sono assorti nella visione degli spettri tornati a riprenderli non c'è modo di ingannare l'attenzione dell'istitutrice le exhibition toccano il loro vercice di perfezione quando i fantasmi sono lì in quei momenti lei non può vederli più di quanto possa farlo la signora Grose ma c'è un indizio più certo di ogni visione quel silenzio che sempre si accompagna alla presenza dei fantasmi come abbiamo visto fino al punto di poter essere considerato come il loro elemento naturale è un silenzio magico perché non comporta la cessazione dei rumori che in quel momento si vanno producendo una quieta assoluta una pausa di qualsiasi forma di vita che niente aveva a che fare con i nostri eventuali rumori in quel momento e che io non riuscivo a sentire in mezzo agli scherzi che si facevano più chiassosi la recitazione più concitata o lo strimpellare più fragoroso del pianoforte l'apparizione della signorina jessel questo teatro del silenzio questo gorgo muto che si spalanca nel mezzo dei rumori prodotti dai giochi dei bambini è un criterio di comprensione della verità che si sostituisce alla visione degli spettri da parte dell'istitutrice il fatto è che a un certo punto del suo periplo dell'orrore capitolo 13 la protagonista realizza che esiste l'orribile possibilità che i suoi occhi siano improvvisamente sigillati mentre quelli di miles e flora rimangono più che mai aperti per i lettori è una sorpresa se si pensa a quanto il racconto stesso dipenda nell'attribuzione di un ruolo preciso ai singoli personaggi dalla loro capacità di vedere gli spettri di quinte della signorina jessel l'istitutrice vede la signora grosa come il resto della servitù di bligh non può vedere i bambini vedono fingendoli non vedere ma una volta distribuite queste prerogative il genio di james le rende intermittenti con l'eccezione della signora grosa che non vedrà mai gli spettri e forse deve questa sua esenzione alla sua ingenuità e sostanziale bontà d'animo ma come abbiamo visto i due spettri hanno il potere di avvicinarsi ai bambini rendendosi invisibile la loro impotente protettrice che può solo sospettarne la presenza guidata da quell'indefinibile metafisico silenzio ma mentre l'azione precipita verso la sua catastrofe finale james gioca una carta degna della sua suprema intelligenza di sicuro miles e forse anche flora a volte non vedono più i loro persecutori consideriamo prima flora rispettando la sequenza esatta degli avvenimenti tutto accade nel giro di due giorni dopo pranzo con la sua impeccabile cortesia da perfetto gentiluomo miles propone all'istitutrice di suonarle qualcosa al pianoforte e suona così bene che la povera ragazza ormai allo stremo delle forze commette una leggerezza imperdonabile ammaliata dalla musica dimentica la situazione cadendo in una specie di trance dalla quale si riprende rendendosi conto di non sapere più dove è finita flora rapidamente aiutata dalla signora grose perlustra tutte le stanze della casa ma flora non è lì diventa chiaro che quella di miles è stata una riuscita manovra diversiva per consentire alla sorellina di raggiungere la signorina jesse lì arriva al solito laghetto attraversato di furia il parco sulle tracce di flora l'istitutrice e la signora grose si rendono conto che la bambina ha liberato una piccola barca da di porto dal suo ormeggio per raggiungere la riva opposta e ha avuto addirittura la furbizia di nascondere la barca una volta arrivata dall'altra parte dietro un piccolo promontorio sempre più angosciate le due donne percorrono a piedi il breve tragitto ed eccola lì flora in piedi sull'erba un rametto di felce in mano tutta impegnata nel recitare la parte della bambina deliziosa poco lontano esattamente nel punto dove era apparsa la prima volta rivelando all'istitutrice il doppio gioco della bambina la signorina jesse domina la scena e una presenza assoluta che sembra sovrastare tutto il paesaggio circostante non c'era una sola scheggia di malvagità scrive james che andasse perduta in tutto l'ampio raggio in cui si protendeva la sua brama ma chi è in grado di vederla questa volta non certamente la signora grose che nel definitivo conflitto che sta per scatenarsi tra flora e l'istitutrice dovrebbe nelle speranze di quest'ultima incarnare la posizione di un giudice imparziale costringendo la bambina ad ammettere la sua doppiezza quanto a flora nonostante la sua ingiustificabile fuga in barca nega tutto e quando finalmente l'istitutrice nomina apertamente lo spettro dove è cucciolo mio la signorina jessel non fa che provocare nella piccola una crisi di nervi tale da indurre la buona signora grosa a prendere le sue parti spaventata dall'improvvisa brutalità con la quale ogni reticenza viene infranta la rottura è irreparabile naturalmente la bambina dichiara di non vedere nulla e accusa l'istitutrice di crudeltà ma l'aspetto più sconvolgente della scena è che la fisionomia dell'adorabile flora è diventata ancora più paurosa di quella della stessa signorina jessel mi pareva di vedere ricorda l'atterrita testimone della metamorfosi la sua impagabile bellezza infantile improvvisamente appannarsi e svanire del tutto lasciando in posta un'espressione dura di una durezza sgradevole ma non è solo la durezza dell'espressione a essere notata dalla narratrice quando la signora Gross le chiede stupefatta come abbia potuto una bambina di otto anni usare con tanta destrezza una barca per attraversare il lago l'istitutrice le risponde che flora in certi momenti non è una bambina è una donna vecchia molto vecchia osservazione che addirittura viene letteralmente ribadita poche pagine dopo se l'innocenza infantile è stata recitata fino ai limiti delle loro possibilità da Miles e Flora in accordo con gli spettri la ghiacciante verità sottesa a questa rappresentazione è l'immagine di una bambina vecchia culmine di un processo di corruzione ormai prossimo al raggiungimento dei suoi scopi non c'è da mettere altro tempo in mezzo l'unica possibilità di salvezza per Flora consiste ormai nell'abbandono di Bly la signora Gross che pur non avendo mai visto lo spettro della signorina Jess il vede benissimo gli effetti della sua influenza non solo sulla fisionomia della bambina ma anche come abbiamo già detto sulla sua maniera di parlare si incarica senza pensarci due volte di portarla via rimangono a Bly i protagonisti dell'ultimo grande atto della tragedia l'istitutrice Miles sempre più diviso tra la fedeltà allo spettro di Quint e una volontà troppo incerta e contraddittoria di liberarsene il tragico finale del romanzo a giudicare dalle condizioni di Miles negli ultimi tre capitoli del giro di vite potremmo addirittura sospettare che nella scena sulla riva del lago dove si consuma in maniera definitiva la rottura fra l'istitutrice e Flora quest'ultima sia in buona fede quando dichiara con tanta pertinacia di non vedere nessuno sulla sponda opposta ma questa non è affatto la prova che un critico freudiano sventolerebbe volentieri a sostegno dell'ipotesi che gli spettri non siano altro che allucinazioni partorite dall'isteria o da qualche altra oscura affezione dell'anima semmai si tratta di uno degli innumerevoli luoghi della prosa di James nei quali la perspicacia del lettore deve supplire una debolezza dei personaggi nell'interpretazione degli eventi e delle loro conseguenze lo stesso James nella già citata prefazione alla New York Edition esprime come meglio non si potrebbe questa poetica della collaborazione tra lo scrittore e i suoi lettori tu pensa solo a rendere intensa nel lettore la sua visione generale del male dissi a me stesso e già questo è un lavoro intrigante e la sua esperienza la sua immaginazione la sua compassione per i bambini e il suo orrore per i loro falsi amici gli forniranno abbondantemente tutti i particolari fagli pensare il male faglielo pensare in sé e sarai libero dal compito di banali specificazioni non valgono queste poche righe a saperne trare tutti gli insegnamenti che vi sono racchiusi più di un corso pluriannale di scrittura creativa non sono forse le banali specificazioni l'emblema più evidente e universale della cattiva letteratura nel caso del giro di vita la collaborazione che lo scrittore esige dai lettori deve raggiungere una specie di parossismo durante il finale tutto consacrato alla sorte di Miles dopo l'uscita di scena della sorellina abbiamo già apprezzato la capacità di James nello sfruttare al meglio l'intermittenza che rende la capacità di vedere gli spettri qualcosa di aleatorio e dunque se possibile ancora più terrificante durante le esebizioni organizzate dai bambini per distrarla e rassicurarla è l'istitutrice a soffrire del fatto che i suoi occhi siano sigillati per sempre o temporaneamente non è dato sapere ebbene Miles subisce drammaticamente la stessa privazione che dovrebbe liberarlo e finisce per distruggerlo il finale del giro di vita fu concepito da James come l'ultimo atto di una tragedia e come in ogni azione tragica che si rispetti anche questa si svolge in uno spazio molto circoscritto al racconto non serve più l'ampiezza vagamente labirintica della casa e del parco rimane solo la sala da pranzo affacciata su una terrazza come in tutte le dimore signorili è proprio lì che l'istitutrice aveva visto per la seconda volta Peter Quinto oltre il vetro della finestra intento a spiare all'interno e a rafforzare il tono tragico oltre alla restrizione dello spazio c'è la consapevolezza dell'istitutrice di affrontare una resa dei conti definitiva e improrogabile per prima cosa deve ottenere da Miles lo scioglimento del mistero della sua espulsione dal collegio che l'aveva angosciata fin dall'inizio della sua residenza a Bligh ebbene Miles finalmente appare disposto a collaborare a farsi proteggere il suo peccato viene alla luce ha detto ai suoi compagni delle cose talmente brutte che nemmeno i maestri e il direttore del collegio si sono sentiti di riferirle ne sono rimasti scandalizzati esattamente lo si ricorderà come la signora Groser è rimasta esterrefatta di fronte alla maniera indecente di parlare di Flora l'influenza che gli spettri esercitano sui bambini dunque la traccia più evidente dell'opera di corruzione esercitata su entrambi e di natura linguistica mentre venivano istruiti secondo tutti i crismi dell'educazione vittoriana destinata ai benestanti Miles e Flora in realtà apprendevano la lingua del peccato questa lingua li ha fatti varcare un confine oltre il quale nessun adulto intenzionato a proteggerli sarebbe stato in grado di raggiungerli e riportarli indietro da innocenti corrotti li ha trasformati e il caso di Miles in collegio in potenziali corruttori ma la confessione non ottiene il desiderato effetto di catarsi il fatto è che Miles non è più in grado di scorgere al di là del vetro della finestra la mostruosa figura di Quinte che osserva la scena in sala da pranzo come una belva delusa un guardiano del carcere questo nuovo fenomeno di intermittenza una volta scoperto dall'istitutrice che invece vede benissimo lo spettro potrebbe essere il segno della vittoria in questa battaglia che si svolge intorno al bambino e credo che qualunque scrittore di storie di fantasmi arrivato a questo punto si sarebbe dichiarato soddisfatto ma non James questo artista così straordinario da riuscire a cavare sempre come un infallibile critico di se stesso tutto il senso possibile dalle sue stesse invenzioni l'istitutrice ha torto e ragione al tempo stesso e al contrario del suo creatore proprio mentre crede di avere ottenuto il suo trionfo non si rende conto delle conseguenze della terribile ambiguità della situazione appena percepisce che i ruoli consueti si sono invertiti e che questa volta è Miles a essere tagliato fuori dalla visione dello spettro esulta come se si trovasse di fronte a uno stupendo miracolo appena è certa che nulla appare al bambino al di là del vetro infestato della finestra raccoglie tutte le energie necessarie a portare a termine la delicata inchiesta sul comportamento scolastico di Miles come ho già sottolineato non ha tutti i torti a comportarsi così ma sta trascurando un dettaglio fondamentale durante il colloquio l'inquietudine del bambino non fa che crescere poiché intuisce una presenza alla quale non riesce a dare una forma i suoi sensi erano sigillati e la comunicazione interrotta si sente in presenza di qualcosa che non sa nemmeno lui riconoscere e quando l'istitutrice fa un balzo verso la finestra si rende conto di essere il solo a non vedere lì fuori per lui non c'è nessuno tanto che in un primo momento pensa che si tratti della signorina Jessel e questo particolare ci informa del fatto che ognuno dei due spettri appariva a uno dei bambini in particolare no non è la signorina Jessel è il suo falso amico che Miles non è più in grado di vedere ma invece di esultare come l'istitutrice di questa presunta vittoria il bambino è smarrito come un cane che ha perso la pista e chiede disperatamente dov'è la guarigione lo sta uccidendo troppo profondo era il legame di dipendenza del bambino allo spettro di Quint perché l'improvvisa privazione potesse evitare un trauma fatale con gli occhi sbarrati seguendo la direzione dello sguardo dell'istitutrice non vede fuori della finestra che la chiara luce del giorno the quiet day e lo scioglimento felice di ogni storia sovrannaturale il ristabilirsi dell'ordine nel mondo perturbato dall'inconcepibile ma il bambino è troppo fragile troppo repentina è stata la vittoria la minacciosa presenza di Quinte finisce per ucciderlo una volta che si è dovuto trasformare in un'assenza liberandolo finalmente dal carcere come i diavoli e gli angeli delle leggende medievali che si contendono le anime dei trapassati lo spettro e l'istitutrice si sono sfidati in una lotta all'ultimo sangue ma nelle braccia della vincitrice se ancora è possibile chiamarla così non è rimasta che la spoglia esanime di Miles non c'è nessun'anima da portare in paradiso solo un cuoricino che aveva cessato di battere è l'ultimo colpo di genio del magistrale tour de force di James e ancora oggi arriviamo a queste ultime righe del giro di vite letteralmente spossati dopo aver riversato nel libro che teniamo fra le mani come desiderava l'autore tutte le nostre risorse di esperienza immaginazione compassione e orrore davvero converrà a lasciare almeno per una notte una luce accesa sul comodino grazie a tutti grazie a tutti